Ciao ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video che sarà brevissimo perché sono qua per segnalarvi una bellissima iniziativa Prima di dirvi di che si tratta vi racconto un aneddoto Io e Tony Perroni di Simracing Underground qualche giorno fa ci siamo cimentati a provare a fare un server su Assetto Corsa Ok, ignorando o meglio mettendo da parte il fatto che noi conosciamo il più esperto di Assetto Corsa italiano Che poi è oltretutto un nostro carissimo amico e siamo costantemente in contatto con lui Ma tramite le difficoltà sono riuscito a fare un serverio, abbiamo fatto qualche giretto eccetera E' stato molto bello Insieme a noi ovviamente girano sempre Antonio Fiorelli di Karma TV David Fire o David Fata se preferite C'è anche Alessandro K di Malati Simracing e tantissimi altri amici C'è anche Alessandro Micali di ASR Formula E a un certo punto Umberto dice Ma ragazzi dovete fare un server, me la vedo io Quindi lui ha messo le mani al portafoglio, ha comprato un server e ha fatto Vabbè visto che ci siamo ragazzi apriamo un time trial E invitiamo tutte le persone che vogliono cimentarsi a confrontarsi in pista con noi e con tutti Insomma ma non che noi vogliamo confrontare Cioè vogliamo proprio condividere la cosa Quindi è bellissimo questa iniziativa Infatti lui ha fatto un video, vi lascio qua qualche scheda Dove parla di questa bella iniziativa La combo è molto semplice E' una Ferrari 310 del 1996 fatta proprio da Alessandro Micali E' una mod gratuita Fatta benissimo proprio di ASR Formula E il circuito è il Mugello Ha lanciato questa cosa e noi siamo veramente felici perché è da questo pomeriggio Perché stiamo cercando di confrontarci eccetera Ci sono già delle belle storielle da raccontare in merito E quindi niente, volevo condividere con voi questa cosa Così veniteci a raggiungere, ci becchiamo sul server Magari sarebbe anche l'occasione di entrare in qualche discord nostro Per poter fare quattro chiacchiere E niente, questa normalmente dovrebbe durare un paio di settimane Poi Umberto diceva magari possiamo fare altre combo se questa cosa piace Senza impegno ed è un modo per divertirci insieme Vi lascio tutto quello che serve qui sotto nelle descrizioni Però andate a vedere anche il video di Umberto Perché è lui che lancia questa iniziativa Lasciategli magari un like Quindi è un'iniziativa molto bella Perché a noi tutti quanti ci riporta indietro nel tempo Perché assetto course è sempre un evergreen E quindi è molto bello potersi ricimentare e battagliare Quindi ragazzi cosa dirvi Io vado a continuare a fare time trial Vi aspetto in pista lì Da Fabrice è tutto Un abbraccio Ciao Mi raccomando pollice in su iscrivetevi Ciao ciao ciao